Alla settima edizione del Web Marketing Festival abbiamo ospite Ivano Di Piasi, il founder di SEOZoom insieme a Giuseppe Liguori. Allora, Ivano, siamo qui con te e volevamo sapere qualcosa di più della tua azienda. Qual è la mission di SEOZoom? Allora, la mission di SEOZoom è diventare un tool internazionale. Noi abbiamo lavorato negli ultimi tre anni per prendere buona parte del mercato italiano, quindi arrivando ad un miliardo di keyword monitorate per il mercato italiano. E a settembre lancieremo la suite anche in Inghilterra, quindi saremo al Brighton SEO dove presenteremo SEOZoom per il mercato inglese. Dopodiché partiamo per il mercato spagnolo e statunitense entro un anno, quindi questa è un po' la missione che ci siamo prefissati. Già arrivare negli UK per me è fondamentale, è un bel mercato, è interessante. Le sfide all'orizzonte della vostra azienda sono piuttosto ambiziose, oltre all'internazionalizzazione? Fortunatamente non siamo un'azienda che punta ai fatturati, ti sembra strano perché le aziende vengono fatte per guadagnare. Noi ci divertiamo, ci piace fare questo lavoro e ci piacerebbe essere presenti all'estero. Andiamo per la fama, diciamo così. Ci divertiamo, vogliamo arrivare in America. Vediamo com'è. SEOZoom ha il Web Marketing Festival, il più grande festival sull'innovazione digitale e sociale. Cosa ne pensate di questo evento? Come vi state trovando? Sì, per me già era una certezza, lo sapevo. È il terzo anno di fila che abbiamo lo stand, abbiamo una sala formativa nostra, sempre molto piena, quindi molto seguita. Ci piace tantissimo l'evento, ma anche lo spirito con cui viene organizzato da Giorgio, da Cosmano e dallo staff Marco Quadrella, Andrea Pernici. Sono persone stupende, organizzano un evento stupendo, quindi mi piace molto. Benissimo. Ringraziamo Ivano Di Biasi, l'appuntamento è sui nostri profili social e il saluto è sempre lo stesso. Buon festival! Ciao, buon festival! Ciao, ciao!